buongiorno aggiornamento meteo dalle rive del fiume Po sofferente per la siccità ancora non sono arrivate le vere piogge autunnali ma soltanto temporali forti che non fanno altro che fare danni nel fine settimana addirittura si prevede un ritorno dell'anticiclone sul tropicale con un'ondata di caldo tardiva al centro sud in particolare ma lambirà anche il nord 30 32 gradi al centro compresa la capitale 32 34 fra domenica e lunedì in particolare in sicilia al nord ci si ferma 26 28 gradi con aria molto umida da seguire una saccatura ad onda corta questa potrebbe favorire forti temporali già sabato al nord ovest e liguria e in seguito temporali improvvisi ma violenti potrebbero arrivare e rompere anche in pianura padana nella giornata di domenica da seguire fino a mese l'eventuale ingresso di una saccatura piuttosto profonda e attiva quella potrebbe essere la vera svolta autunnale lo sapremo in seguito seguiteci per aggiornamento e dettagli